E' più cretina, eh? Però anche, abbi pazienza, c'è, tanzazzo venina. E io non sono cretina, ho fatto anche Sanremo, sai? Ma che cosa dico? Anche se non c'era la toffola quell'anno, però io l'ho fatto. Ecco, innanzitutto la telecamera è qui e là, e tu dovresti tirare il tuo sino prorompente, che ti pagano un sacco perché c'è queste belle due vele, zittone, ecco, verso il pubblico, così il pubblico ti fa vedere. Da natura, nel sinicone. Ecco, adesso...